Se state riscontrando problemi riguardo all'avvio su Black Meat Wukong oppure problemi di crash sul gioco anche avendo una buona scheda video quindi in questo caso bisogna aggiornare i driver obsoleti, quindi in questo caso c'è chi avvia il gioco senza aggiornare i driver quindi in questo caso Nvidia ha anche rilasciato dei driver proprio per Black Meat Wukong sulla tua scheda video però devi scaricarli, quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma Nvidia App per Nvidia, quindi Nvidia App Beta e poi c'è AMD Software Adrenaline, è proprio come Nvidia per scaricare i driver e soprattutto modificare anche la grafica ai giochi quindi in questo caso si ha Nvidia, scarica così la beta, apriamo un attimo Nvidia vai su driver ed eccoli qua, vai su driver studio, vedi se devi fare qualche aggiornamento su driver studio oppure driver game ready aggiorna e vedi se devi fare qualche aggiornamento qua sopra una volta fatto fai la stessa cosa anche con AMD Software Adrenaline Edition ovviamente non posso farti vedere come aggiornare un driver qua sopra perché non ho niente di AMD quindi non ho una scheda grafica AMD quindi scarica il software, lo installi e fai la stessa cosa che ho fatto su Nvidia aggiornando i driver se non dovesse bastare possiamo anche aggiornare i driver direttamente rilasciati dalla Microsoft quelli di Visual Studio dal 2015 fino al 2022 tutto in descrizione RM64 x86 x64 scarichi tutti e tre i driver li eseguo tutti e tre come amministratore mi dice di ripristinare quindi a me è già installato quindi mi basta chiudere perché una volta installato devi riavviare il computer sì stessa cosa anche con questo questo qua invece non posso installarlo perché non sopporta il tipo di processore quindi in questo caso tu scarica e installa lo stesso questo Microsoft Visual C++ 2022 RM64 e vedi se il tuo processore lo supporta come ho detto una volta scaricato e installato puoi cancellare questi driver se non dovesse bastare possiamo andare direttamente su Download Web Installer DirectX questa qua del DirectX scarichi DirectX Web Installer per la tua scheda grafica accetti il contratto togli così la spunta da qua e fai avanti installazione del componente DirectX completato e fai fine se non dovesse bastare ancora tasto destro su Start gestione dispositivi schede video schede video la tua scheda video aggiorna driver perché driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili scegli così il modello da installare fai avanti e installi così il driver per la tua scheda grafica quindi una volta scaricato tutti questi driver installati anche riavvia il tuo computer puoi anche vedere se devi fare qualche aggiornamento su Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti fai la verifica vedi di fare qualche aggiornamento scarica install e poi riavvia il computer e prova ad avviare il gioco ovviamente il gioco giocalo senza lo schermo intero quindi schermo intero senza bordi e la v-sync attivo per bloccare gli fps e adesso non mi resta che entrare sul gioco come puoi vedere il gioco funziona benissimo anche con tutti questi effetti grafica alta sto combattendo e non sto avendo problemi di crash quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao